Si rappresentano in questo momento in cui non abbiamo comunque delle risposte positive dai governi. Stiamo seguendo un sentimento, un segnale che è stato dato in piazza. Il momento della Sardine deve trovare uno sbocco come lo Stato, come non hanno trovato il momento di forgoni che si è spento. Bisogna trovare uno sbocco nell'alternativa per i cittadini, il quarto polo, se no sarà solo un'avestazione trasporanea di dissenso che non ha nessuna prospettiva. Noi vogliamo una città accogliente, una città solidale e tutto qua. Ci deve essere uno sbocco nel quarto polo, in alternativa a questo svolto autoritario e lobbista massonico P2. E come a Parma, la piazza intona l'inno di Mameli, ma è all'altro grande poeta genovese Fabrizio De Andrè che si ispirano i manifestanti. Bisogna dare il quarto polo, nella prospettiva del quarto polo. Grazie.